Eccoci qua nella bottega dell'artigiano teatrante, allora oggi parliamo di un artigiano, ma di un artigiano, oggi parliamo del primo artigiano che ha riciclato scarti tessili, proprio il primo in assoluto, cioè sappiamo che il riciclo degli scarti tessili è andato a Prato, ma chi è stato il primo? Il numero uno, cioè quello che c'è lui, prima non c'è niente, dopo esiste, capito? Quindi il punto zero, chi è stato? La storia parla di lui. Allora, la leggenda, no la leggenda, la verità parla del 1850, ora ovviamente io come la maggior parte della gente che mi sta ascoltando nel 1850 è un cero, è un cero e quindi non è che posso aumentare le cose, mi sono avvalso dell'aiuto di scrittori, di saggisti, di persone che vivevano nell'epoca e hanno poi raccontato il periodo storico in cui si trovavano. E quindi dobbiamo ringraziare Filippo Mariotti, dobbiamo ringraziare Luigi Bado, dobbiamo ringraziare Corradino Calamai che nel 1927 scrisse la storia dell'industria laniera nella provincia di Firenze. E certo, Prato, perché Prato era sotto Firenze, era il grande grado di Toscana all'epoca, quindi era sotto Firenze. Comunque, miscolando un po' le informazioni qui dentro, tutto parte nel 1850 con un certo baggio che arrivava dal napoletano che si trovò a costruire la prima sfilacciatrice. Lui praticamente metteva dentro solamente i cascami, quindi solamente gli scarti dell'industria tessile, quindi non ancora abbigliamento usato, ma solamente scarti dell'industria tessile, li metteva dentro la sfilacciatrice e creava la famosa lana meccanica. La meccanica è la poltiglia che poi, dopo tutte le fasi successive, però è il primo risultato della sfilacciatrice. Il fatto è che però questo macchinario andava a trazione animale, quindi andava con bestie, con buoi, asini o non so che tipo di bestie, comunque l'efficienza, potete capire, non era l'efficienza gigantesca. Qui nel 1853 arrivò un certo Pacchiani e Alessandro, quindi tre anni dopo, lui pratesissimo, sai era già tutto nell'industria pratese, era tutto lui, era già un uomo molto importante, stato proprio uno dei pionieri della faccenda, un classico pratesace, guarda, fadice, e pensò di chiamare Giovanni Battista Mazzoni. Chi è? Lui. Giovanni Battista Mazzoni, uno dei elementi più brillanti pratesi mai esistiti, cioè lui, grande studioso, inventava, ingegnava, evoluzionava, rivoluzionava tutti i macchinari per poi mandare la vera industria, capito? Quindi la meccanizzazione dell'industria deriva tanto da lui. Quindi, Pacchiani disse, oh Giovanni Battista, senti una cosa, ma, guarda Baggio, purino, e mi fa una pena con quegli asini o quei sciuchi lì a girare, ma, Giovanni Battista, ti chiamo GB, beh, GB, ma non è che si può fare qualcosa di più, un po' più veloce, te che tu c'è tutte queste macchine, stamente, eh, GB, Giovanni Battista disse, la voglia, in tre secondi, fece una turbina che mandò una sfilacciatrice, quindi la prima sfilacciatrice è mandata a turbina, turbina ovviamente alimentata dalla gora del Bisenzo, dal Bisenzo, ora, mi posso portare lì perché bisogna stare qui, però, eh, mi posso vedere, magari mi porterò, comunque, vicino a Cogliano-Santa Lucia c'erano le gore, quindi loro davano il Bisenzo, la forza del Bisenzo, davano energia all'industria bratese. E lì, Pacchiani ebbe l'idea di non solo riciclare cascami, ma anche indumenti usati, quindi già si cominciava a evolversi la faccenda, e faceva delle miste alla naveggia, quindi miste di vergine più riciclato. Ma più avanti, nel 1854, Pisani, Francesco, che guardava tutto, ha visto i parateso, mi sono, guarda, 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 fece ancora un'evoluzione successiva, un'evoluzione ulteriore, ovvero la famosa sfilacciatrice a guazzo, o sfilacciato, o in a guazzo, o straccione a guazzo, comunque, utilizzava la forza del Bisenzo, sì, per mandare la turbina, per mandare la sfilacciatrice, ma anche gli stessi indumenti erano in acqua, quindi bagnati, venivano, entravano nel tamburo, e quindi venivano sfilacciati così. Questo permetteva, in assoluto, di fare molta più quantità, di andare molto, molto più veloce, e di fare una qualità più alta, tant'è che lui riuscì a fare proprio una mista di filato totalmente rigenerato, nel 1854, totalmente rigenerato. Per cui, sono loro tre, che si possono racchiudere in un unico artigiano, un unico artigiano composto da lui, Baggio, Pacchiani e Pisani, che insieme, come se avessero collaborato senza saperlo, hanno creato l'economia circolare del tessile, senza sapere che la parola economia e la parola circolare potessero andare a braccetto.